Vamo cammini Se non ci vedete noi siamo lì A questo non le devi andare con me perché cammini quando non hai che comere stanno attra di ti a che ora vanno a comere a che ora vanno a comere Sì, non mi dica che vanno a fare questa Vamo Dove andiamo? Sant'Hambrocio 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 Oh no Ha compreso per il diverso la paqueta Ah, su madre Questo è il hotel Que bonito A ver se si Questo è il stanzo? Ah, questo è un doppio arreto Sì, vabbè Sì, vabbè Sì, vabbè Sì, vabbè Questa pepa di aranciata Il problema è che Io ho messo già un altro medicina Ma come mette quest'altro? Che cos'è? Oggi Però qual è il problema? No, il problema è che io le faccio il piede E io la tomo con un po' Ora, ci va agarrare un altro biquero Un altro biquero che ci stava Vabbè Vabbè Vabbè, comunque Tranquillo 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 La yame Grazie Grazie